una vita anticipazioni spagnole leonore morta della hidalgo non sappiamo più nulla dopo la sua rocambolesca fuga insieme a pablo il giovane tornerà molto presto ad acacias senza la sua dolce metà che cosa ne è stato di leonore perché non è con lui come le anticipazioni delle nuove puntate di una vita video ci raccontano nuovi colpi di scena presto animeranno acacias tra i protagonisti di queste vicende troveremo leonore pablo il blasco riuscirà grazie a felipe a risolvere i suoi guai ottenendo l'indulto per l'accusa di omicidio di guadalupe che pendeva su di lui e farà così ritorno nel paesino spagnolo tuttavia il rientro da pablo non sarà affatto scevro di problemi in quanto al suo fianco non comparirà leonore ricordiamo che i due avevano deciso di separare le loro strade per evitare di essere catturati dalla guardia civile con la sola promessa di rivedersi presto poi il nulla solo tra qualche settimana sapremo che cosa è realmente successo quando rosina vedrà pablo senza leonore pretenderà spiegazioni ma il giovane non sarà in grado di placare la sua ansia la sua reticenza farà infuriare rosina che accuserà l'uomo della disgrazia che ha colpito la figlia una vita episodi spagnoli cosa è successo a leonore i progetti di pablo e leonore non sembrano essere andati in porto i due coniugi infatti sarebbero dovuti partire per andare in marocco ma pablo ha deciso di raggiungere da solo malaga leonore invece sarebbe finita in una zona semi desertica dell'africa sola e sperduta che ne è stato di lei come svelano le anticipazioni di una vita video a peggiorare la situazione sarà l'arrivo di un aggiornamento da parte delle autorità che si sono messe sulle tracce di leonore su direttiva di rosina il commissariato comunicherà alla madre della hidalgo del ritrovamento di alcuni effetti personali molto presumibilmente appartenuti ad una donna che è stata aggredita e quasi certamente uccisa vicino a cordova la situazione assumerà toni drammatici quando si scoprirà che questi oggetti appartengono proprio a leonore a dare una flebile speranza il fatto che non verrà rinvenuto nessun cadavere pablo non si perderà d'animo e si metterà subito in cerca della moglie aiutato da victor ferrero riuscirà a ritrovare la sua amata per altre news sulla sop opera in onda su canale 5 ricordatevi di seguire il canale una vita obiettivi di in onda su canale Grazie a tutti.